Ok, questo è il personaggio. Abbiamo Bone Wave, Rentless Lab Berserk, Warlord Blade, Tempering Blue, Heart Striker, questo disobbedienza main, Ghost Walker, Edge Master, Growlithe Bread, questa era Ancestral perché mi piaceva la skin, anche se l'Interest Rage è buona. Abbiamo avuto la fortuna di trova per Ring of Red Furor, Chieftain Ring, che tecnicamente è uno dove posso istituirlo, ma io mi si, mi risumo, e sta cosa che è quasi inutile però diciamo che è figa perché gioco con Charge. Abbiamo un bello Attack Power, ci siamo fatti già la Cattedrale of Flash, schiattando praticamente solo due volte. E mo' per tutti gli amici a casa vediamo se baregge la pompa col BOSSO FINALO. Col BOSSO FINALO. Che dovrebbe essere? Che di asso? I danni ci stanno. Non posso ancora darlo. Piu 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 piu. No. Devo schivare un po' di più. Ok. Guarda che cazzo mi cucca fa. Coddio di livello 55 ci sto andando. Cioè c'ho veramente uno sputo di vita. Non c'ho neanche i castoni. Ah giusto, voglio mettere i castoni su tutto, non c'ho pensato. Madonna, i danni. devo attendere. Non posso ancora farlo. Devo attendere. Oh mamma mia. E poi... Cioè mi sa... Fammi fare una cosa. Fammi fare una cosa. Per quanto da lui il ragnetto gli sta facendo più danni di me. Allora... ... Buon appetito! Combatti bene, eh? Fagliela pagare! Non posso ancora farlo Facciamo un azione un po' L'ho riparato Le mie abilità sono senza pari, vedrai Non posso ancora farlo E' lì Un altro call ever, guarda, è veramente troppo macchino da trovare Però No, ecco qua Ah, non c'ho per... non c'ho un cazzo Ah, a posto Ancone per l'elmo Un castone all'elmo Giusto che non è un po' più di vita E... vabbè E' stato un piacere Devo attendere Ovviamente Le fanno cacare Perché non c'abbiamo quelle Uber fighe Questo è quello che da 170 Anzi E' un cazzo, allora Sarà il mio gioco Ah, aspetta Non posso ancora farlo No Vabbè E allora proviamo l'azzozzata Proviamo l'azzozzata Quella che abbiamo visto Quella che hanno detto che si può fare Devo attendere Vediamo se è vero Ok, facciamo arrivare a quel frocio De... Senza offesa per i gay Quel frocio De Rias Ok, facciamo arrivare a quel frocio Devo attendere Non posso ancora farlo Non posso ancora farlo Niente Bisogna far more Tentativo numero 2 Abbiamo cambiato l'arma E abbiamo fatto upgrade Anche sui Julel Su Ring E Amulet Vamo Ring E Amulets Devo attendere Adesso ci riproviamo E vediamo che succede Anche perché voglio dire Ci stava andando piuttosto bene Era... Cioè non ci stava andando male Posso farlo qui Posso farlo qui Sì 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 da dai ero scappato in burundi ero già arrivato in zimbabwe cazzo è casillo ma mi posso mettere la resistenza al uomo undead eric seal ma non posso ancora farlo devo attendere ma queste morti così random cioè fa veramente troppi danni quella cosa o sono io che ho veramente troppa poca vita non mi hai di alcuna utilità no lo so non sei di alcuna utilità tu proprio facciamo l'ultimo tentativo e poi cerchiamo e vi va già molto migliore livelli più alti non posso ancora farlo cioè mi schemi ma comunque ti colpiscono devo attendere guarda lui mi sparano dove sei devo attendere devo attendere devo attendere non posso ancora farlo esatto non posso ancora rispondere però posso fare per gli antichi per il potere di gray school per il potere di gray school ci vuole l'emote giusta sarà il vostro sarà il vostro ultimo stupido errore già bu asser ci vuole ci vuole ci vuole ci vuole ci vuole è ci vuole è questo lo dedico a tutti i miei followers su youtube questo è un grande traguardo soprattutto perché di livello 55 in solo 55 in solo e l'ho fatto nella pausa del lavoro non posso ancora farlo ma la cosa bella è che sta cosa l'ho fatta nella pausa del lavoro ah vabbè ah vabbè ma cazzo ti permetti vai così e solo per i miei amici a casa vi rivelerò il mio vero aspetto ebbene sì sono viola sapevate